Assemblea sul piano regolatore generale di Caltanistetta nel pomeriggio alle ore 16.30 nei locali della parrocchia San Pietro. L'incontro riguarda anche le zone di Santa Petronilla e San Giuliano. Prevista la partecipazione dell'assessore comunale all'ambiente, alla vivibilità e alla viabilità Giuseppe Tuminelli. Un'altra occasione per discutere sull'aggiornamento del PRG dopo le assemblee tenutesi a Balate Pinselli e Santa Barbara. Il cittadino potrà esprimere la propria opinione sullo sviluppo del proprio quartiere e quindi potrà essere reso partecipe delle scelte future riguardanti la revisione del piano regolatore, strumento di pianificazione e programmazione urbanistica che tiene conto anche del tessuto sociale ed economico della città. Nel corso della riunione dunque saranno raccolte istanze e idee da parte dei cittadini. Il calendario dei prossimi incontri di marzo, il 22 San Domenico, Angeli e Santa Croce, il 25 Mangia Lasagne e Borgo Petilia.